Salve e bentornati o benvenuti sul canale. Anche per oggi si prospetta davvero una bella avventura. Saremo in compagnia di Dante Alighieri, che di cammini se ne intendeva. Saliremo a Patrica, sul Monte Cacume, per seguire ancora una volta il sentiero dantesco. Sarà oggi più che mai un cammino di spiritualità, di natura, di arte, di cultura e di sport. Chi più ne ha più ne metta. Allora andiamo. Restate con noi, iscrivetevi al canale e se vi piace lasciate pure un like. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.